Ciao, io sono Serena Maccialatte per Blueberry Travel. Avete sempre sognato di guidare una motoslitta nei paesaggi incantevoli della Finlandia? Ecco come si svolge l'escursione nei nostri viaggi. Ciao da Roberta, Blueberry Travel. Oggi siamo qui perché stiamo per fare l'escursione in motoslitta, che è l'escursione che probabilmente spaventa la maggior parte delle persone quando veniamo qui nell'Artico. In realtà è abbastanza semplice guidare una motoslitta. Le istruzioni di sicurezza che ci vengono date sono sempre molto chiare ed è semplice seguirle. Allora, prima di tutto bisogna stare seduti in questo modo nella motoslitta, cercando di tenere le gambe ben vicine. Non bisogna stare così, ma questo mi sembra che sia abbastanza chiaro. La motoslitta ha un acceleratore qua, perlomeno questo tipo di motoslitta, quelle che utilizziamo noi qui al Corpicartano. Ha l'acceleratore e il freno che serve per rallentare e per frenare del tutto. I manubri sono riscaldati. E con questi pulsanti si può anche decidere l'intensità della temperatura. Per sterzare basta semplicemente muovere il manubrio da una parte all'altra e aiutarsi col peso del corpo. Quando si ha una motoslitta con due passeggeri, il passeggero siede posteriormente e ha la possibilità di spostarsi insieme al guidatore di modo tale da bilanciare facilmente il peso. In un'escursione che facciamo qui a Menesiarvi, solitamente guidiamo nel sentiero segnato che c'è nel lago. Il sentiero è tracciato ed è molto sicuro, però è importante stare in fila con le altre motoslitte e non uscire fuori strada o fuori percorso, in quanto sotto la neve fresca ci possono essere delle sacche d'acqua che possono rendere pericoloso per la motoslitta non soltanto il funzionamento, ma possono dare diversi problemi perché si rischia di restare bloccati per parecchio tempo. Tutto qua è molto facile, i giri che si fanno sono decisamente affascinanti perché si va oltre che nel lago ghiacciato anche nella foresta e quindi la cosa migliore da fare è godersi il paesaggio e godere di questo tipo di escursione così adrenalinica e affascinante. La motoslitta è un mix di emozioni e adrenalina, siete pronti a partire con noi?